ha rappresentato la prosecuzione della storia dell'unità d'italia mi sembra che sia sufficiente cioè lui è stato sicuramente il figlio dell'ultimo re purtroppo vediamo che le istituzioni italiane non hanno apprezzato molto questo evento qua nonostante la morte nonostante la pietà che uno dovrebbe avere verso qualcuno che ha rappresentato comunque l'unità d'italia la storia del nostro paese grazie a vittorio e manuele io e mio marito ci siamo sposati la storia di una casata che ha fatto la storia d'italia grazie savoia l'italia è stata unita è bene ricordarlo vittorio manuele era l'erede una casata storica e così importante e e e la casa reale d'italia o lo conosco non lo conosco di poca importanza poca importanza dobbiamo riconoscere io sono per la storia la storia bene o male sempre la storia non è che siamo qui perché conosciamo maniera emanuele filiberto è ovvio che lo conosciamo ma perché i sentimenti che noi proviamo nei confronti di casa savoia è come diceva l'avvocato hanno fatto l'italia che ci siano stati degli errori ma tutti sbagliano